Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buona giornata a tutti, sono il parroco di Candiolo. Candiolo è diventata famosa perché nel territorio della nostra parrocchia è sorto l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro, che adesso è anche con valenza scientifica. Arrivano malati da tutta Italia e anche dall'estero e dall'inizio mi sono accorto che molte persone dormivano in macchina. Allora, d'accordo col Cardinale Poletto, abbiamo pensato di costruire una casa di accoglienza per dare ospitalità ai parenti e ai malati di cancro. Abbiamo costruito questa casa ma con il tempo le richieste sono aumentate. Ecco quindi la nuova necessità di ampliare la stessa casa. Ne ho parlato con l'arcivesco Monsignor Nosiglia, il quale ha dato l'ok a questo ampliamento, per cui costruiremo altre 19 camere con due letti ciascuna, un salone di ritrovo per le persone quando sono nei momenti di tempo libero e poi un secondo refettorio al primo piano, di modo che tutti abbiano in loro angoli cottura e possano vivere nella maniera più decente possibile questi periodi, a volte anche lunghissimi, di presenza per le cure a Candiolo. Questa casa di accoglienza è fondamentale perché le persone non vengono solo a cercare un letto, cercano un'attenzione alla persona e alla loro famiglia. Hanno bisogno di essere ascoltati, di essere accompagnati, hanno bisogno insomma di un sostegno che vada oltre le cose materiali. Anche se i volontari della casa di accoglienza, che sono adesso quasi 200, stanno loro accanto per risolvere i problemi pratici di ogni giorno. Faccio degli esempi, li accompagniamo da e per l'ospedale, li aiutiamo quando devono fare delle cure anche altrove, stiamo vicini a loro per i bisogni materiali che può avere una persona lontano da casa sua. Vi vorrei parlare di tre dimensioni. La prima parte l'ho già accennata ed è la dimensione dell'ampliamento della casa. Ormai sono oltre 100.000 ipernottamenti che abbiamo avuto dal 2007 fino a quest'anno. Nel calcolo siamo in difetto perché quando un ammalato occupa la stanza, quella stanza è occupata, però se l'ammalato va in ospedale, la stanza è sempre occupata, anche se fisicamente non c'è l'ammalato ma c'è il suo parente. Di qui allora questo bisogno di ampliare la casa che abbiamo già previsto nella costruzione della casa la possibilità di ampliamento. I lavori inizieranno con ogni probabilità in questa settimana dopo che i Vigili del Fuoco ci hanno dato il parere positivo al progetto di innalzamento. La seconda cosa che voglio mettere in evidenza è il fatto che essendo cambiata la legge circa le ONLUS, la nostra attualmente è una ONLUS, abbiamo incominciato un percorso per cambiare lo statuto giuridico della nostra casa che diventerà un ente di terzo settore. Siccome ha una valenza nazionale, l'arcivesco era preoccupato che un giorno, non so, mi capiti un colpo e debbano sostituirmi o mi vogliano trasferire, l'arcivesco è preoccupato e allora ci ha messo accanto la Caritas diocesana, con loro stiamo valutando questo passaggio giuridico. Sono venuto qui anche per dire che stiamo raddoppiando i malati, abbiamo bisogno di raddoppiare anche i volontari. Siamo divisi in tanti gruppi, abbiamo bisogno di ancora 130 volontari per fare il volontariato di notte e di giorno e per fare i vari servizi. Ho anche un tappo che mi ha mandato una nonna di 85 anni, Maria Anna Teresa, raccogliamo anche i tappi. Grazie a tutti, buona giornata. La Croce Rossa italiana, comitato di Susa, è attiva in Valle di Susa dal 1998. Da oltre 20 anni si occupa di attività sanitarie, sociali e di risposta alle emergenze. A partire dal 2017 abbiamo attenzionato un nuovo fenomeno che sta interessando il nostro territorio, che è legato al transito di un flusso migratorio di migranti che tentano di raggiungere altri paesi europei attraversando le nostre montagne. Nel compiere questo passaggio, spesso queste persone vanno incontro a dei rischi che possono compromettere la loro stessa incolumità. Teniamo conto che si tratta di zone montane, sempre al di sopra dei 1500-2000 metri, che possono essere affrontate dai normali escursionisti. Ma per una persona che non ha mai conosciuto l'ambiente montano, nascondono numerosi pericoli e rischi, soprattutto nel periodo invernale. Per questo motivo la Crociosa Italiana ha avviato il progetto Migralp, l'intesa con la Prefettura di Torino, i comuni del territorio e numerose realtà del terzo settore, proprio con l'obiettivo di portare soccorso e assistenza a queste persone. Teniamo conto che dal 2017 ad oggi, nell'ambito di questo progetto, abbiamo assistito e portato aiuto a oltre 2200 beneficiari. La nostra principale attività è proprio di assistenza, quindi tutte le sere, soprattutto nel periodo invernale, siamo presenti al Colle del Mont Ginevro, nell'abitato di Clavier, l'ultimo villaggio italiano prima del confine, situato a 1700 metri, per informare queste persone dei rischi a cui vanno incontro nell'attraversare la montagna. Raccontiamo loro quale numero di emergenza da chiamare in caso di necessità, prestiamo assistenza dando vestiario, generi di conforto, gli diamo la possibilità di raggiungere un dormitorio, un luogo caldo in cui trascorrere la notte. Un episodio di cui vi voglio raccontare, del nostro servizio serale e notturno, che mi ha molto colpito anche a proprio livello emotivo, il recupero di un intero nucleo familiare, marito, moglie e due bimbi molto piccoli, scaricati da un passeur un po' prima dell'abitato di Clavier e lasciati in mezzo alla strada. Immaginate, nevicava con temperature intorno ai 10 gradi sotto zero, queste persone abbandonate, cioè questo nucleo familiare abbandonato a se stesso. Grazie al nostro servizio che facciamo tutte le sere e le notti, siamo riusciti a recuperarli immediatamente, prima che sopraggiungesse problemi di ipotermia, soprattutto una cosa molto normale a quelle altitudini e temperature, e portarli in un luogo sicuro e protetto. Esatto, la prima attività, la cosa più importante è proprio l'informazione. Spesso ci troviamo di fronte persone che non hanno mai visto la neve, un aneddoto è che addirittura sono capitate persone che non sapevano che la neve fosse fredda, cioè hanno attraversato il deserto, il mar Mediterraneo, spesso l'ultimo miglio è proprio rappresentato l'attraversamento delle nostre Alpi, che per noi sono un ambiente familiare, conosciuto sin dalla nascita, ma per persone cresciute in tutt'altro contesto non è una cosa così scontata. Quindi davvero informazione, evitare che le persone si mettono in pericolo, dopodiché la scelta aspetta ciascuno. Noi non siamo lì né per spingerli a passare il confine né per fermarli, siamo lì per portare assistenza e soccorso in caso di necessità. Volevo sottolineare quant'è importante la nostra presenza sul campus durante la nostra turnazione, in questo caso come la divisa che portiamo. Siamo Croce Rossa e diamo aiuto a tutti in qualsiasi momento di bisogno o di necessità. Le persone, soprattutto i migranti, quando ci vedono sono ben contente perché sanno che siamo un'istituzione mondiale sulla quale possono chiedere aiuto di qualsiasi tipo. Salve a tutti, siamo con il Presidente Elio Balistreri, rappresentanza dell'Anmin del Piemonte. L'Anmin è l'associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Presidente, nel 2019 rispetto al 2018, i primi nove mesi, l'incremento degli infortuni sul lavoro è stato 0,5%. Se guardiamo poi in alcune province come Novara, c'è stato addirittura un incremento delle morti sul lavoro. Si è passati sempre nei primi nove mesi da due morti nel 2018 a ben 12 morti nel 2019. Che cosa sta accadendo? L'Anni è sempre presente sulla prevenzione, proprio sui posti di lavoro per tutelare i nuovi lavoratori che prendono, sottovalutano il discorso della prevenzione credendo di essere mai rassoggettate a un infortunio e non sentono i vecchi lavoratori che hanno più esperienza e possano dargli dei consigli per tutelarli eventualmente per non incappare in infortuni sul lavoro. Ecco, questa è la percezione del rischio che bisogna sempre tenere molto alta. Però ci sono anche altri capitoli importanti. L'informazione, la formazione e la rete dei controlli. Allora, sull'informazione l'Anni fa molto per tutelare tutti i lavoratori che si inseriscono nel posto di lavoro. Sulla formazione viene fatta, ma credo che deve essere fatta in modo più capillare e seguita attentamente. Ecco, e per quanto riguarda i controlli, è un capitolo spinoso ma deve essere affrontato. Sui controlli, ahimè, mancano gli ispettori che devono andare a verificare sui posti di lavoro tutte le norme di sicurezza. E questo, mi dispiace, ma è il governo che deve tutelare e assumere gli ispettori per tutelare eventualmente cose che non vanno nei posti di lavoro. Ecco, prima lei ha parlato dell'informazione che fa l'ANMIL, soprattutto attraverso un'idea semplice ma importante, quello dei testimonial. Noi mandiamo i nostri consiglieri nelle varie scuole di ogni ordine e grado, particolarmente in quelle professionali, perché saranno i lavoratori del futuro che devono sapere che quando si inseriscono in un posto di lavoro hanno questi rischi. E con le aziende c'è anche la presenza dei testimoni nelle aziende? Anche nelle aziende noi mandiamo sempre i testimoni e cerchiamo di avere più possibilità di inserirsi nelle varie aziende perché comunque sono i lavoratori che poi saranno salvaguardati eventualmente nella loro carriera lavorativa. Oltre 76 anni di vita per l'ANMIL che a livello nazionale ha 300.000 iscritti. A livello regionale quanti iscritti conta? Abbiamo circa 15.000 iscritti tra la regione Piemonte e le province piemontesi. Credo che l'ANMIL abbia fatto e faccia ancora tanto da 76 anni che tutela gli invalidi del lavoro con i servizi, mettendo a disposizione gli avvocati e i medici che comunque tutelano eventualmente le pratiche infortunistiche che il lavoratore non sarebbe capace di seguire. Ecco, una presenza capillare nel territorio anche con altri tipi di servizi come il CAF, il patronato? Anche noi ci siamo attivati su questo settore e infatti sui servizi noi abbiamo aumentato drasticamente tutte le presenti. Diamo servizi sia come CAF che come patronato e come tutela dei lavoratori. Perciò riteniamo che come AMMI facciamo molto e continueremo a fare molto per tutelare i lavoratori. Quindi una cosa va detta, vi rivolgete a una platea più ampia dei semplici iscritti perché questi sono servizi universali? Sì, ci attuiamo a seguire i vari iscritti lavoratori e non pensionati, è tutto, proprio per avere la possibilità di dare più servizi alle persone che hanno delle disabilità, alle persone anziane e a tutto il settore del lavoro. Grazie, ringraziamo il presidente Elio Balistreri. CNA Torino presenta il progetto I Love It, una grande mostra dedicata all'eccellenza della manifattura italiana che ha per protagonisti 15 produttori artigiani del territorio torinese e piemontese, un grande progetto espositivo che la più grande associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della città metropolitana di Torino ha organizzato in collaborazione con il sostegno economico della Camera di Commercio di Torino e con il patrocinio tra gli altri della città. Una mostra che ha aperto ufficialmente i battenti il 18-15, scusatemi, di ottobre di quest'anno e che proseguirà ininterrottamente per 15 mesi consecutivi fino al 31 dicembre del 2020, dove siamo a Terrazza Giolitti, in quella che per molti anni è stata la sede del Circolo del Design di Torino, un'associazione, un ente che Cenea Torino ha sostenuto sin dalla sua Costituzione e che recentemente si è trasferito all'interno di un'altra sede, peraltro molto vicina, lungo via San Francesco da Paola e di cui Cenea continua ad essere soggio. Terrazza Giolitti è uno spazio espositivo in pieno centro, all'interno dei locali del centro congresso di Torino in Contra, con accesso appunto da via Giolitti 26 Barra, proprio di fronte alla sede dell'Aci, uno spazio facilmente raggiungibile, aperto tutti i giorni dal martedì al sabato, siamo chiusi soltanto il lunedì e la domenica, una mostra con ingresso gratuito che prevede nel corso dei 15 mesi della sua durata anche una turnazione dei prodotti esposti e delle aziende espositrici. Quelle che espongono a partire dal mese di ottobre andranno avanti ininterrottamente fino alla metà di aprile, poi ad aprile avremo una piccola turnazione di una parte degli espositori. La cosa importante è che dentro questa mostra che cosa si vede? Si vedono oggetti intanto belli, belli, espressione della capacità manifatturiera delle aziende artigiane torinesi, abbiamo gioielli, abbiamo bigiotteria di alta gamma, abbiamo abiti, abbiamo borsette, abbiamo corpi luminosi estremamente creativi e oggetti di artigianato in legno, diciamo piccoli elementi di arredo, spesso modulabili, che hanno anche dietro dei brevetti nazionali e internazionali. Oggetti che sorprendono. Noi la chiamiamo I Love It, la galleria delle meraviglie, perché il progetto espositivo di I Love It in realtà viene declinato di volta in volta. Siamo ormai alla decima proposta al pubblico, il progetto è nato nel 2011, nell'occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Siamo stati la prima mostra privata organizzata al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, subito dopo l'inaugurazione a cura dell'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Da allora, ininterrottamente, la mostra I Love It propone all'incirca ogni anno un progetto espositivo all'insegna della bellezza, del design, della creatività e ogni volta vuole sorprendere. Siamo stati ospiti della Manifattura Aurora, siamo stati presenti in Galleria San Federico, siamo stati presenti in Piazza Castello, ospiti della Regione Piemonte per molti anni. Adesso, ripeto, Terrazza Giolitti, Via Giolitti 26 Barra, I Love It, Galleria delle Meraviglie. Perché l'abbiamo chiamata la Galleria delle Meraviglie? Perché è un omaggio alla storia sabauda di Torino, a quella meravigliosa galleria che appunto Casa Savoia realizzò per esporre i grandi capolavori d'arte di proprietà della famiglia. Una galleria scomparsa che univa quella che è l'attuale Palazzo Madama ma con quello che è l'attuale, diciamo, biblioteca reale e armeria reale. Una galleria su due livelli dove c'erano capolavori incredibili, libri preziosi, mappe geografiche, l'autoritratto in sanguigna di Leonardo da Vinci che è Il mondo ci invidia. Ecco, noi chiaramente non siamo a quel livello, ma vogliamo far sognare, vogliamo raccontare un Made in Italy diverso, prezioso, esclusivo, fatto su misura. Un Made in Italy che è espressione di una capacità produttiva che ha una storia profonda nella storia dell'Italia. L'Italia è la terra della bellezza, delle cose belle e gli artigiani sono questo patrimonio. Quindi vi invitiamo, via Gioliti 26 barra A, ingresso gratuito, ininterattamente tutti i giorni dal martedì al sabato. Grazie e buona mostra a tutti. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.